Un idraulico va a riparare un rubinetto. Signore, le spiace se indosso le cuffie? In questo modo riesco a concentrarmi più facilmente quando lavoro. Non ci sono problemi, faccia pure. Benvenuto al tutorial passo passo, come riparare un rubinetto. Ora parlami un po' di te. Non fumo, non bevo e non esco con gli amici. Vado a letto alle 22 e mi sveglio alle 6. Sì, leggo molti libri e mi alleno tutti i giorni. Wow, sei l'uomo della mia vita! Quando possiamo incontrarci? Appena esco di prigione. Papà Mummia, mi racconti una favola? Sì, c'era una volta. Mi trasferisco in Cina. Ma sai parlare cinese? Sì, sono un mandarino. Dove stai andando? Esco a fare due mila passi. Al troppo di... di terra. Che schifo, non li mangerei mai! Al troppo di... di mare. Che buoni, li mangerei sempre! Quando arrivi primo? Evviva, ho vinto! Quando arrivi terzo? Evviva, sono sul podio! Quando arrivi secondo? Uffa, non ho fatto abbastanza! Dove stai andando. Fa sto davvero 돼uxi! Grazie a tutti